Ciao a tutti, come state? Oggi video spesa, sono andata alla Lidl, sono uscita da lavoro, sono andata a prendere a Ginevra ho fatto una capatina alla Lidl perché dovevo prendere alcune cosine e ora vi faccio vedere, vi faccio vedere prima i freddi allora, ho comprato questo salame sta 1,89€ da tenere in casa secondo me sapere poi ho voluto prendere queste fettine senza lattosio sottilette senza lattosio 1,18€ quello che riesco perché ho lo scontrino qui quindi quello che riesco a prendere a volo ve lo dico poi ho preso il montaggio per mio marito della marca Italiamo mi trovo bene con la marca Italiamo quindi l'ho preso 2,25€ per quanti grammi è? per 300 grammi poi ho preso il pesto alla Ginovese questo qua di nonna mia è buono è collaio e a noi piace anche se ho preso anche la piantina di basilico pagata 1,29€ che ora ho sul tavolo Ginevra vuoi prendere la piantina di basilico a mamma? vediamo se Ginevra me la prende ve la faccio vedere è una classicissima piantina allora il pesto vediamo se lo trovo 1,09€ poi ho preso questo hamburger di carne marchigiana allora tutto in Italia nato in Italia allevato in Italia macellato in Italia e selezionato in Italia ho scritto qui 2,19€ pagato 2,19€ poi ho preso il prosciutto cotto io lo prendo sempre a Ginevra questo con solo 3% di grassi mi trovo bene e lo prendo sempre 1,59€ poi ho preso questi filetti di platessa da fare stasera per cena a me pagati 2,49€ erano in offerta e sono 250 grammi quindi me li faccio poi ho preso questi straccetti di pollo di pollo italiano ho preso questi straccetti di pollo ho preso i filetti di pollo affettato sottile sempre pollo italiano poi ho preso i straccetti di petto di pollo ho preso la tagliata di petto di pollo perché sono a dieta sono andata in palestra e quindi molta carne bianca mi aiuta e questi li ho pagati la tagliata di pollo 3,79€ gli straccetti di pollo 3,79€ e filetti di pollo 2,59€ poi ho voluto prendere questa mozzarella a fette senza lattosio ne ho prese due confezioni e costava 0,59€ 0,59€ era in offerta poi ho preso questa settimana c'era la settimana iberica se non sbaglio e ho preso queste tortiglia questa tortiglia con il prosciutto cotto questa è buona perché così anche mio marito se la può fare molto velocemente e poi per lo stesso motivo ho preso questa insalata di farro e orzo e questa insalata di riso proprio sono velocissime tipo da portare a lavoro quindi subito fa oppure quando torna da lavoro se non ci sono non ancora devo rientrare subito subito fa e può mangiare qualcosa a volo questi sono tutti freschi poi ho preso delle merendine questi teneri amici all'albicocca non li ho metisti era Ginevra con me ed è rimasta attratta vediamo apriamoli ah sono fatti in questo modo ah ma sono morbidi Gini vieni a vedere a mamma vedete sono fatti in questo modo sono morbidi tipo pan di spagna e dietro hanno il ripiero c'era una cioccolata albicocca beh Ginevra ha voluto l'albicocca la cioccolata è una pimba anomala preferisce l'albicocca la cioccolata poi ho preso queste nastrecce pan di spagna senza olio di palma farcito al latte sempre le merendine per la scuola poi ho preso il tonno questi non vi dico i prezzi perché hanno in circa sempre 99 centesimi 1 euro 19,29 quindi molto semplicemente le merendine hanno sempre questo prezzo qua il tonno l'ho pagato 3,49 euro tonno al naturale poi ho preso il dash alla lavanda amore non fare rumore che poi a me piace a me l'odore della lavanda in genere non piace mi piace soltanto in queste ecodosi un attimo amore stava in offerta 3,19 euro poi ho preso queste focaccelle al rosmarino vediamo allora papà mamma dimmi guarda qua mamma che ti fa vedere guarda guarda lo vuoi? vuoi salutare? dici ciao ciao saluta vieni amore dici ciao 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 leone è il leone si amore e dici ciao 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 la vuoi? si la vuoi? si e dai vediamo com'è assaggia vedi com'è tu è buono è buono ok a fretta poi ho preso altre merendine sempre per lei ho preso le noci per me le prendo sempre alla Lidl poi abbiamo preso le fragole per la principessina perché lei ogni volta che le vede le vuole pomodorini ah non mi sto dicendo i prezzi mi sono persa allora le fragole 1 euro e 25 poi peperoncini verdi 1 euro e 99 poi abbiamo preso i kiwi bio biologici 1 euro e 79 mezzo chilo la pianta di basilico come ve l'ho detta ma Ginevra non mi è andata a prendere 1 euro e 29 i funghi champignon 1 euro e 25 broccolo 99 centesimi pomodoro ciliegino 1 euro e 49 e poi la rucola 99 centesimi ok questo è finito è finita la spesa amore ah ma vedete sta scendo tutta l'albicocca vedete come è fatta esce proprio esce tutta l'albicocca al centro stai attenta mamma se no ti sporchi se no ti cade non ti sporchi e niente quindi questa è tutta la spesa è stata una spesa velocissima dovevo comprare soltanto due cosine e poi alla fine ho preso altre cose io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao